Molto bene, buongiorno a tutti quanti, bentornati nel premier tema di Vigiora Magnoli Siamo qui innanzitutto per dirvi che non siamo scomparsi, ci scusiamo per questo mese di sosta che ha avuto il nostro canale Questo mese di sosta è stato dovuto soprattutto ad un cambio di attrezzature Perché prima usavamo un computer che non supportava molto bene Magic Arena e soprattutto ci impediva di andare in streaming Finalmente abbiamo preso attrezzature nuove, quindi ci siamo fermati per mettere a punto tutto quanto E adesso con questo video vi annunciamo che il premiato Magnificio Romagnoli torna in pompa magna in grande attività Questo video lo facciamo anche per dirvi come cambieranno le cose su questo canale Perché abbiamo deciso di cambiare con l'entrata del canale streaming di Twitch La nostra linea comunicativa per quanto riguarda i contenuti inerenti a Magic the Gathering Dunque abbiamo deciso innanzitutto di spostare tutto il giocato in streaming Non abbiamo intenzione di fare play qui su Youtube o video di Dead Tech per due motivi Il primo perché ci sono già un sacco di canali che sono anche molto più autorevoli di noi Che lo fanno, fanno vedere le Dead Tech, fanno vedere le giocate, i test delle giocate dei nuovi mazzi eccetera eccetera E secondo perché ci ha un po' annoiato, cioè secondo noi è molto più divertente per come affrontiamo noi Magic Per come produciamo noi contenuti giocare direttamente in streaming Quindi il canale Youtube d'ora in avanti diventerà una sorta di posto dove faremo rubriche Dove parleremo di argomenti inerenti a Magic Ospiteremo judge, ospiteremo giocatori Insomma sarà più un canale da salotto, da confronto, da dibattito E da tematiche discusse, parlate e confrontate a voce tra noi del Premiato Magdificio E tra i vari ospiti che interverranno qualche volta Tutto il giocato invece lo sposteremo direttamente sul nostro canale Twitch Dove troviamo maggior divertimento tutti quanti a farlo Il nostro canale Twitch si chiama PMR underscore Magic Purtroppo non abbiamo potuto usare Premiato Magdificio Romagnoli Perché nella nomenclatura del canale non ci stava, era troppo lungo Quindi insomma vi invitiamo a venirci a trovare sul canale Twitch Seguite le nostre dirette, draftiamo, scusate, facciamo dirette di qualsiasi cosa Adesso stiamo draftando molto M21 Ma faremo anche historic, brawl, standard, insomma faremo tante cose Metteremo la schedule ogni settimana sulla nostra pagina Instagram Così potrete vedere nella settimana che verrà Quali saranno i momenti in cui noi ci connetteremo in streaming su Twitch Per giocare insieme a voi Venite a trovarci, state in nostra compagnia Insomma, il Premiato Magdificio Romagnoli Sarà il canale di Magic più scorretto di Twitch Quindi ci sarà da divertirsi Ci vediamo su Twitch e su Youtube per queste rubriche Mi raccomando, seguiteci sul Premiato Magdificio Romagnoli E anche per questa volta non mi resta che dirvi Alla prossima!